ciao amici a shallow gloves oggi siamo qui sul campo per testare e recensire u sport arored con taglio negative e lattice super soft con colorazione di russa 2018 anche se siamo un po in ritardo ma come si comporteranno in campo seguitemi e lo scoprirete il lattice è il super soft che generalmente è un po sottovalutato seppur inferiore a qualche aspetto ai cugini absolute grip super grip e offre comunque delle buone prestazioni specialmente su asciutto un po meno su bagnato forse la pecca maggiore ce l'ha per quanto riguarda la resistenza all'abrasione che è un po sottotono rispetto agli altri radattici della casa tedesca il taglio è un negative molto aderente che abbiamo apprezzato molto per la sensibilità che offre in fase di presa questo guanto è un guanto molto tradizionale è una struttura che è garantita da materiale mesh e lattice salgomato sul dorso struttura che offre libertà di movimento alla mano senza pesantirla troppo ma allo stesso tempo dona un buon sostegno il polsino è totalmente elasticizzato e il cinturino è tradizionale e fa un giro intorno al polso in conclusione questo guanto lo consiglio agli amanti delle strutture tradizionali né troppo leggere né troppo pesanti a chi ricerca un taglio negativo aderente che garantisca una sensibilità buona in fase di presa il lattice il super soft che spesso viene sottovalutato io invece lo considero un lattice affidabile che i non eccessivamente esigenti possono utilizzare anche in partita specie in condizioni di asciutto il rapporto qualità prezzo è sicuramente interessante per oggi è tutto se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale youtube e di seguirci su instagram e un saluto agli amici a shallow growth